Rapina all'Eurospar di via Canalazzo sabato pomeriggio. Erano le 15.30 quando un uomo è entrato nel supermercato con il volto coperto da un casco e ha minacciato una cassiera armato di coltello. L'uomo ha puntato l'arma al fianco della donna intimandola di consegnargli il denaro presente in cassa e di aprire la cassaforte. La dipendente non ha potuto però soddisfare quest'ultima richiesta poiché non in possesso delle chiavi. Il rapinatore a quel punto si è accontentato del denaro in cassa ed è poi fuggito a bordo di uno scooter portando via un bottino stimato intorno ai 3.000 euro. Sono quindi stati avvertiti i carabinieri che hanno raccolto la descrizione del malfattore e visionato le telecamere di videosorveglianza. Le ricerche sono subito riuscite ad essere esito positivo e il rapinatore è stato rintracciato poco fuori di Ravenna e arrestato.